E così, questa è la famosa Twilight Forest, non è proprio come me l'aspettavo, insomma, natura, fiori, insetti, è così pacifica, bella, sembra un bel posto dove vivere, posso capire il perché il portale era così sigillato, nessuno vorrebbe che un posto del genere venisse contaminato dal male, eppure a quanto pare il vecchio re di Onalim è qui. A proposito, io avrei una certa fretta, devo trovare il referente in questa dimensione, ci dovrebbe essere un viaggiatore in questa dimensione ad accogliermi, ma non c'è nessuno qui. Ok, mi sa che è il caso di fare un giro, questo albero è un arcobaleno? What the fuck? Ma è così pacifica, isolata, non c'è nessuno qui. Lì però c'è una casetta, potrebbe essere quello il posto, ok, direi di andarci subito, così sulle rive di un così limpido laghetto c'è una casetta, non posso immaginare che qui ci potrebbe essere qualcosa di così malvagio, a parte una pecora cornuta che sembra una sorta di baffometto. Ciao pecora, è un cervo, che bello. Ciao bambi, come sta la mamma? Oh mio dio, e tu chi sei? Scheleton druid? Mi stai avvelenando? Bastardo. Ok, forse non è proprio così pacifico come sembrava questo posto, anche perché qui dentro c'è uno spawner, fammelo rompere subito. Mio dio, mio dio, no, no, non mi avvelenare ancora, ok. Stupida pecora cornuta, mi hai portato in una trappola, vai via. Ah, non volevo ucciderti, volevo solo darti un colpetto, comunque non è di certo questa la casa che cercavo. Ehm, non c'è nessuno, non ci sono tesori, c'era solo uno stupido spawner per dar fastidio. Potrebbe essere su quell'albero, aspetta! Sì, vedo delle luci, c'è una staccionata, ok, sicuramente è lì il rifugio di cui parlavo, ed è anche vicino al nostro portale. Per cui direi di mangiare e di recarmi subito lì. Tra l'altro non si capisce che ora del giorno sia, ma essendo la foresta del crepuscolo, penso sia sempre crepuscolo qui, o qualcosa del genere. Tra l'altro lì c'è qualche altra strana struttura, come anche qui. È un tronco vuoto? È un tronco vuoto! Ok, tutto qui, pensavo fosse una sorta di dungeon mostruoso. Hello? Non c'è assolutamente niente qui, dai, non c'è tempo da perdere. Devo recarmi assolutamente in quella sorta di casa sull'albero. Sembra che sia una casa, ma sembrerebbe di sì, lì ci sono delle staccionate, quindi è sicuramente un albero di quegli abitati. Ma come si sale? Ci sono delle liane qui, potrebbe essere questa la salita? Direi di sì. Ok, a quanto pare sono arrivato. Toc toc, è permesso? Chiudo la porta. Ci sono cicale rumorosissime e ceste vuote. C'è nessuno? Forse al piano di sopra? Non riesco ad aprire la botola. Qualcuno mi aiuti? È bloccata, mi scusi, io la devo rompere, mi sa, perché non... O forse c'era un se... Ah, c'era un'aliana davanti, ok, ecco perché non si apriva. Dovrei però salire in qualche modo. Mi sa che dovrò rubare un'aliana da qui. Bam. E metterla lì sopra, perché a quanto pare la natura ha preso il sopravvento, tipo... E... Ops, ho sbagliato. Devo prenderla da qui, l'aliana, ok? E farmi una scaletta io, perché era bloccata la botola. Che sono le cinque e mezza, non penso proprio che siano le cinque e mezza. Però in questa casa non c'è nessuno? Qualcuno? Avrei dovuto essere accolto da qualcuno in questa dimensione, ma... È deserta. Giudicare dalle eliane che la ricoprono sembra anche essere incurata da molto tempo. Che cosa è successo qui? Beh, forse è il caso di andare a dormire per il momento e settare lo spawn. Dopodiché vedo nella mappa che c'è una sorta di labirinto qui fuori. Direi di iniziare a indagare da lì. Presto, vai nella Twilight Forest, eh? Mi dicevi questo, vecchio. Poi vado, non c'è tempo da perdere, sembrava che avevamo fretta solo noi. E non c'è nessuno ad attendermi. Spero solo che non sia successo niente all'abitante di questa casa, al viaggiatore di questa dimensione. Un'enorme pecora splendente. Mi ha camminata di fianco. Eh, non ho ucciso altre pecore due simili. Mi raccomando, non mi faccia niente, anche perché ha 70 di vita. Non sembrava promettere niente di buono. Questo strano posto... Non è nulla. C'è un dispenser lì in alto. Che contiene della lana. Qual è il senso di tutto ciò? Mi aspettavo di trovare nemici pronti ad uccidermi. Invece ci sono solo pecore e dispenser che sparano lana. Forse è il caso di esplorare un po' di più. C'è nessuno! Non c'è nessuno. Ehi là! Mi sento alquanto solo qui dentro. Insomma, sono in una dimensione tutto solo. Perché ci sono... Un castello? Un enorme castello? Potrebbe esserci qualcuno qui dentro? Oddio. Che cosa? Un campo di forza? È una sorta di... Posso passare qui dentro? Non ho mai visto qualcosa del genere. È abbastanza strano. Ma è un'entrata questo castello? Potrebbe avercela. Potrebbe non avercela. Tanto sono solo. Non penso che qualcuno... Oh mio Dio! Che cos'è? Merda! Merda! Scusi, non volevo toccare la parete del suo castello protetto da un enorme campo di forza. Però sa com'è. Se non ci sono delle porte. Che cosa mi ha droppato oro? E fieno? È indistruttibile questo castello? Mi stai dicendo ciò? Non posso passare? Non... Quando io tento di romperlo, si attiva il campo di forza e spawna gente. Ma se non ha una porta, io come posso entrarci? Ok, forse sarà il caso di tornarci poi qui. Quando avrò compagnia e avrò un'idea di come agire perlomeno. Penso di aver appena trovato qualcos'altro di molto strano lì in fondo. Una sorta di... Tangenon di struttura? Ma forse è una sorta di città protetta da mura. Oddio, ne ho abbastanza di città protette da mura. Non vorrei mai scoprire che all'interno si nasconda qualche sorta di gigante. Però le mura non sono così alte. Quindi forse no. Naga? C'è un boss qui dentro. Ehm... Non so se è il caso di affrontarlo. Ma è una sorta di... Labirinto gigantesco? Stando alla minimappa... Oh, ciao! Ti ho visto? Eh no, non scappi. Non scappi, amico mio. Ti ho visto. Che cazzo sei? Un... Serpente... Foglia gigante. Ok, in qualità di viaggiatore. Sono arrivato fino qui per pulire la dimensione dal male. E se c'è un boss... Mi tocca affrontarlo. Però magari posso fare un assaggino prima per vedere almeno quanta vita hai? Beh, non sembri così forte. Se con una freccia ti ho fatto tanto male... Forse non hai tutta sta vita. 200 di vita! Ah no, aspetta amico. Forse mi sono sbagliato. Forse... Forse ti attaccherò alle spalle. Ok? Tu non farci caso. Tu non farci caso. Oh merda, merda, merda. È un serpente gigantesco. È un cazzo di serpente gigantesco. Ma aspetta, se io l'attacco alle spalle perde blocchi? Qualcosa del genere, forse? O lo devo attaccare alla testa? Io ci provo, io ci provo. Gli ho già tolto un bel po' di vita, ma... Non penso sia così scarso. Secondo me nasconde qualcosa! Ai, 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 ai. Non ti azzardare a farmi del male in questo modo. Devo mangiare, devo mangiare però. Devo mangiare un attimo. Devo mangiare un attimo ma non farmi inseguire. Aia, 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 aia. Ok. Non sto andando tipo benissimo. Però... Merda! Ehm... È evaso dalla sua gabbia? L'anca mi aveva detto di non far uscire mostri dalle mura. Però in questo caso ho fatto un errore. Vieni qui! Non te ne potrei andare in giro per questa dimensione. Devi crepare subito. Non riesco ad ucciderti. Però forse lo devo colpire alla coda. In qualche modo sei anche incastrato. Potrebbe fare il caso mio questa situazione. Provo ad attaccarlo da dietro. Anche se è brutto da dire. Però... Oh! Ah, non ti preoccupare. Ti disincastro io dalla roccia. Però smettila di rigenerarti in questo modo. No! Merda! Sta recuperando tutta la vita. Ok, ora non sei più tanto incastrato. Ma perché mi colpisce a distanza? Come fa a farlo? Penso di averlo liberato in qualche modo. Voleva tipo ritornare nella sua arena. Però adesso ha recuperato tutta la vita. Forse l'ho accorciato in qualche modo. Gli ho rotto dei blocchi. Potrebbe essere questa la tattica vincente. Proviamo. Proviamo ad attaccarlo di nuovo. Vieni. Non riesco neanche a toccarlo. Che succede? Dai! Ok! Sto tornando a fargli danno. Forse lo posso danneggiare solo mentre è nella sua arena. Qualcosa del genere. È forte. È forte. Devo stare attento e non farmi colpire troppo da lui. Perché toglie. Toglie e fa molto male anche. Ok, dai. Però è a metà vita. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Lo devo prendere con un ritmo incalzante. Dai, 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 dai. 66, 61. Forse ce la sto per fare. Basta che poi non si rigenera un'altra volta. Ma non so come funziona. Come funzioni, mostro? Essere demoniaco. 19 di vita. È diventato piccolissimo. Ed è anche veloce, però. Merda, vieni qui. Vieni qui. Preso. 9 di vita. 9 di vita. 9 di vita. Ce l'ho fatta. Ho ucciso il Naga. E mi ha droppato una sorta di trofeo. E un libro? Buy a Forgotten Explorer. Dovrei forse... Ok, ho un bel po' di roba da guardare qui. Queste lami non mi servono più. Erano per i giganti. Quindi le posso lasciare giù. Un trofeo. E un libro. È un libro in inglese. Ho iniziato a esaminare la strana aurea che protegge questa torre. I mattoni della torre sono protette da una maledizione. Più potente di qualsiasi cosa io abbia mai visto. La magia della maledizione ribolle nell'area circostante. Alla mia terra avevamo molti modi per contrastare questa magia. Ma i miei rifornimenti sono limitati. Devo fare ricerche. Una rottura? Nei miei viaggi? Sta parlando del Naga, del serpente. Ok. Ho raccolto le scaglie verdi di questo serpente. L'abbiamo raccolta anche noi. La magia nelle scaglie sembra avere un potere per rompere la maledizione. Quindi l'aurea che circondava quel castello può essere rotta in qualche modo con queste scaglie. Ne abbiamo ben otto. Non so però come possano funzionare. Va bene. Devo trovare assolutamente il viaggiatore di questa dimensione. Ma dove potrebbe essere? Sarà il caso di tornare a casa a questo punto. Ma aspetta. Pare che rompendo i pilastri il mostro abbia scoperchiato l'entrata di un dungeon. Dove porta? Una prigione? Ma aspetta. C'è qualcuno lì dietro. Ma aspetta. 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 Ma aspetta.